allora stasera finalmente vediamo l'apertura e lo smontaggio del cisa 285 75 lucchetto vabbè della sala cinesca un monoblocco in acciaio trattato e molto resistente vabbè della serie se vi casca sul pavimento finisce al piano di sotto andiamo innanzitutto a vedere come si riesce ad aprire ci vuole un tensore abbastanza spesso e poi vabbè non avete capito il canale è un po' quello che è vediamo un po' allora io vabbè ne ho già sistemati altri di questi lucchetti quindi so qual è la configurazione dei pin interni e vado ad agire di conseguenza vabbè c'ho questa posizione qui perché che tengo il tensore col pollice che vabbè non è il massimo dal punto di vista della tecnica però capite bene che non è un lucchetto come gli altri allora vi anticipo che c'ha anzi no non v'anticipo niente non v'anticipo niente niente spoiler vi tengo in sospeso ma c'è la morte ecco diciamo su questi profili qua io le prime volte ho notato una particolare efficacia di un grimaldello artigianale di mia produzione che di fatto era un diamante un diamante molto poco accennato che usavo non per il racking ma bensì per un pin to pin e cioè insomma dov'è il problema più che altro è molto difficile di vincolarsi in canali del genere già a meno che non si abbiano grimaldelli veramente molto sottili che vabbè sono alto di gamma e come avrete capito io volo abbastanza basso su queste cose però vabbè comunque pure quello era un'ottima ottima ottima alternativa che mi consentiva eccolo si è aperto sì perché più che altro non si riesce a scavalcare il pin con la punta del gancio col diamante si può fare pressione e lavorare in spinta che però non è un racking banale è una cosa anche abbastanza delicata diciamo che è un pin to pin un po facilitato nell'ingresso allora vedete lo scasso di cui vi parlavo è questo qui c'entra anche un grimaldello anche abbastanza spesso una volta inserito si spinge un pochino in dentro l'arco e poi si tira completamente fuori che cosa facciamo vedete c'è questo cadenascio qui questo qui va su e giù e spinto su da una molla non blocca il cadenaccio del lucchetto va su e giù e noi infilando il grimaldello lo teniamo basso perché giustamente va rientra quando ci sono gli incavi nell'asta e noi lo teniamo giù con questo e poi estraiamo adesso lo tiro fuori se vi interessa vederlo è fatto così leggermente cavo sotto estraiamo anche la molla e ci proviamo una bella chiave a brugola del due e mezzo mi pare vediamo un po' esattamente vedete qua ci sta un foro qui sopra che ci consente di svitare a parte che è un pochino spanata questa mi sa questo è probabile che ci ha messo le mani pure qualcun altro prima di me ok dovrebbe essere abbastanza e a questo punto esce fuori la mostrina di protezione che come funziona allora ci sono due sistemi diversi c'è quello più vecchio che prevede una mostrina che qui c'è un cerchio si vede un cerchio da fuori ed è un perno che arriva dentro e viene tenuto fermo da questa vite a brugola in questo caso invece è un sistema diverso ci sono queste due palline queste due biglie d'acciaio che in posizione rilassata vedete che sono completamente dentro la sagoma se spingiamo la vite qui in mezzo si espandono e vedete che insomma bloccano lo spostamento della mostrina c'è questa placchetta che ruota adesso cerco di toccare il meno possibile perché se mi perdo pezzi poi diventa un problema estradiamo il nucleo che vi ho già fatto vedere nel video della ricostruzione della chiave la chiave eccola qua non si vede molto purtroppo eh mannaccia eh l'avevi accesa prima vabbè e niente insomma l'abbiamo scassinato e come vedete qua sopra ci sono i pin si vedono posso estrarre la chiave pin vabbè sapete come funziona insomma non ve lo sto a rispiegare smontiamolo vediamo un po' qual è la configurazione interna a questo punto ve lo posso anche dire ci sono dentro tre allora intanto cinque pin come basamento ci sono tre spulpin e il primo basamento in acciaio e se qua abbiamo il vantaggio di poter usare la chiave per smontarlo che non è una cosa da poco assolutamente bisogna stare attenti solamente a questa si questo incavo è abbastanza infame che rischia di farci saltare qualche pin allora prendiamo il nostro follower cerchiamo un punto in cui c'è abbastanza continuità e abbiamo fatto questo è il nostro rotore che non avevamo mai visto perché di fatto la chiave l'abbiamo fatta con la duplicatrice con le chiavi a codice però vediamo che è è perfetto non c'è veramente niente da dire vediamo che il primo pinner è quello in acciaio ve l'avevo fatto vedere e adesso vediamo quello che non avevamo visto in precedenza ahiaiai non c'ho le pinzette vabbè amen facciamo senza mi faccio un pochino indietro aiutiamoci un po' con questo questo è il primo pin cilindrico in acciaio lo caccio un attimo giù lo lascio lì e passiamo al secondo bobina eccola lì due numero tre bobina pure lui numero numero quattro ancora una volta bobina e numero cinque ultimo è un pinzerrato questo forse non si era visto molto bene eccolo qui è il solito che si trova in prima posizione nei logo line e quello che si trova in ultima posizione nei cisa standard bene abbiamo spanzato come si dice a roma questo cisa 285 75 vi ho mostrato qualsiasi eh si manca il meccanismo di chiusura come funziona ve lo faccio vedere al volo ci sta una pallina vedete che se lo inclino verso il basso qui esce fuori sta pallina d'acciaio e come funziona il meccanismo qui dietro ci sta un pistone che sta sotto quella pallina d'acciaio e viene comandato giustamente questo qui si incastra nel rotore e viene girato e vedete che a seconda di come viene girato esattamente come come un albero a cam del di un motore c'è uno scasso qui in cui rientra il il cilindro che abbiamo visto prima il si insomma quando si appoggia qui sopra può stare più in basso e la biglia scende lasciando libertà all'arco di uscire bene abbiamo sistemato tutto qui c'è questo è il foro in cui viene inserita la biglia e il cilindretto bene finiamo con questo video e buon proseguimento tutto a tutti a tutti un po'